La Regione Abruzzo ha coordinato la proposta condivisa con Marche, Molise e Puglia relativa al processo di revisione della rete transeuropea dei trasporti avviato dalla Commissione Europea nel 2019, proposta che consentirà l'introduzione nella rete di nuovi nodi infrastrutturali, quali porti, interporti e aeroporti, insieme ad un aggiornamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie che uniscono tali nodi. La Regione Abruzzo, nella giornata di ieri, ha proposto l'inclusione nella Core Network, cioè nella rete centrale, della sezione Ancona-Bari lungo l'asse Adriatico e della sezione trasversale Civitavecchia-Pescara-Ortona che collega il Martirreno al mar Adriatico, entrambe non recepite nel 2013. Il nostro obiettivo, ha sottolineato il presidente Marsilio, è quello di affermare l'itinerario marittimo-ferroviario lungo il versante Adriatico-Ionico che raccorda i porti del sud Italia, concretizzando un rapido collegamento verso il nord in una catena intermodale integrata ed efficiente e consentendo l'ingresso ai paesi dei Balcani e all'est Europa. Auspichiamo, ha concluso il presidente della Regione, che la Commissione europea tenga conto dei cospicui investimenti messi in campo per potenziare le infrastrutture citate, alcune delle quali come la ferrovia Roma-Pescara e le autostrade a 24 e da 25, ricomprese tra le opere prioritarie nel piano infrastrutturale 2020 del governo nazionale denominato Italia Veloce. Grazie. Grazie.